Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, resta a coda per traffico tra BV1 Contanaro e Firenze Nord e BV1 Variante in direzione Bologna. Carreggiata opposta, rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Valdarno. Ci spostiamo in A11 dove troviamo rallentamenti per veicoli navaria tra Pistoia e Prato Est nella carreggiata verso Firenze. Uno sguardo al traffico ferroviario fino al 29 agosto per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea faentina, la circolazione è sospesa tra Crespino dell'Amone e Faenza e il servizio viene effettuato con bus sostitutivo. Pressoché inalterato il servizio ferroviario tra Borgo San Lorenzo e Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!